Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, come al solito io sono Lego e questo è un video dedicato a PlanetSide 2 che sicuramente molti di voi avranno subito riconosciuto, mentre altri magari avranno detto ma che sta roba, bene allora quest'oggi sono qui con un video di PlanetSide 2 così un po' per mostrarvi un videogioco in cui in questo periodo sto giocando beh sul canale in genere vi mostro i videogiochi a cui gioco e se in questo periodo gioco a PlanetSide 2 perché non mostrarvi anche un videogioco un po' diverso su questo canale, spero che possiate apprezzarlo però appunto come detto prima ci saranno persone che conoscono in maniera piuttosto approfondita PlanetSide 2 e altre persone che magari o ne hanno solamente sentito parlare o magari neanche lo conoscevano pertanto essendo questo il primo video di PlanetSide 2 è giusto fare una panoramica e beh certo se no che volete che vi faccia una spiegazione dettagliata di tutte le classi? no non lo faccio anche perché non me ricordo tutte quindi facciamo una panoramica generale di PlanetSide 2 così un po' per introdurvi a questo videogioco e come insomma invogliare una persona a provare PlanetSide 2 beh una persona potrebbe dire beh PlanetSide 2 vi dà la possibilità di esplorare un mondo estremamente vasto dalle molteplici sfaccettature oh che bella questa affermazione, molteplici sfaccettature nel senso che potremmo vagare per deserti piuttosto che floride praterie oppure anche gelide, sì gelide montagne ecco PlanetSide 2 mette a disposizione davvero un mondo vastissimo dove poter andare a combattere così vasto che sicuramente non riuscirete mai a esplorarlo tutto in una sola giornata questo è un buon motivo? sì certo questo è un buon motivo ma non è il motivo, il motivo è un altro allora quale può essere il motivo? beh, il fatto che il videogioco vi dà la possibilità di giocare tre fazioni diverse tutte con numerose classi insomma da poter provare no 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 non è quello di avere tante classi e tante fazioni ok allora se non è questo cos'è? classi, classi, ah beh sì insomma le classi tutte completamente personalizzabili con le armi che più ci piacciono poter prendere nuove armi andarle a personalizzare con gli equipaggiamenti piuttosto che andare a skinnare il nostro personaggio con le skin o comunque con gli aspetti più improbabili come quello zebrato piuttosto che tigrato ragazzi se mai trovate una persona zebrata e tigrata non dategli le spalle fate piuttosto suicidatevi ma vi assicuro non date mai le spalle a un soldato con la mimetica tigrata e spero che capiate il motivo no vabbè neanche questo è il motivo per cui una persona potrebbe essere invogliata a giocare Planetside 2 certo si personalizza tutte le classi bello quanto vuoi ma non è questo il motivo quindi quale può essere il motivo? cioè è facile il motivo per cui una persona consiglia un videogioco è il fatto che Planetside 2 è gratuito non ci credo sì magari no vabbè molti lo sapranno già ma alcuni magari vedendo queste immagini non conoscendo Planetside 2 non penso si immaginassero subito vedendo insomma un gioco come questo che comunque sembra piuttosto importante usiamo un termine importante essere alla fine un free to play sì Planetside 2 è un free to play il che significa che se queste immagini vi avessero insomma un po' stuzzicato il vostro interesse potete andare qui sotto in descrizione io vi lascio il sito o piuttosto potete anche cercarvelo su google se credete di essere più veloci Planetside 2 dove cliccate il bottone free to play download e potete giocarvi sì dovete crearvi anche l'account ma queste sono le solite cose insomma non dovete perdervi non dovreste perdervi e soprattutto poi il gioco è anche completamente tradotto in italiano poi potete giocarlo anche nella lingua del Burundi che ne so non penso ci sia però comunque è anche tradotto in italiano quindi non penso abbiate problemi a poi nel potervi trovare a vostro agio quindi sì questo penso che sia il motivo per cui giocare poi certo essendo un free to play come tutti i free to play che si rispettano cioè che si rispettano tra virgolette potete poi decidere di investire soldi per andare ad acquistare subito dei punti che vi permettono di sbloccare più rapidamente tutti gli accessori per quanto riguarda il bilanciamento adesso tra chi shoppa e chi non shoppa non so ancora dirvi molto perché sono sincero io questo gioco l'ho ripreso in mano da poco e quindi non ho ancora avuto modo di percepire questa differenza sicuramente chi shoppa qualcosa magari avrà un vantaggio su chi ha disputato disputa la sua prima partita però immagino che se una persona o meglio se gli sviluppatori vogliono far sì che il gioco possa essere giocato da tutti avranno sicuramente reso un buon bilanciamento tra quelle che tra coloro che shoppano e che non shoppano perché sono sinceramente se io non mi shoppo l'arma mi piacerebbe comunque riuscire a giocare in maniera dignitosa e penso che sicuramente questo sarà fatto ma comunque planet 6.2 io vi consiglio di scaricarlo ma vi dico solo una cosa vi racconto la mia prima esperienza prima esperienza su planet 6.2 si tutto accaduto si gioco che bello che bello questo videogioco parto spawlo corro per 20 minuti 20 minuti cioè 20 minuti effettivi di crono come quelli della wind o della team quelle cose lì 20 minuti corro trovo il primo cristo che mi sega una rotta e anche l'ho subito chiuso perché non ce la facevo penso che possa essere un'idea poi prossimamente se vi facesse piacere se vi piacesse anche il genere di gioco proporvi altri video dove insomma vi do delle linee guida a base per iniziare a introdurvi a planet 6.2 riuscendo a giocare in maniera piuttosto diciamo dignitosa e comunque potendosi anche divertire quindi direi che per questo primo video è tutto adesso poi vi lascerò da alcune clip finali abbastanza divertenti in cui è un gioco in cui si deve giocare con un gruppo di persone e non da soli e con i momenti divertenti quindi in conclusione prossimamente penso di proporvi altri video così da mostrarvi un po' questo gioco così anche qualcosa un po' di diverso e poi io vi consiglio anche di scaricarlo perché potrebbe essere un ottimo gioco per alcune open lobby bene perfetto se aveste apprezzato questo video là sotto c'è un pollicino in su allora io vi chiedo di cliccarlo molto gentilmente e mi fareste davvero molto piacere eventualmente anche un commentino per questo video so ma qualche vostra impressione su punto planet 6.2 io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci troviamo come al solito qua su questo canale con gli altri prossimi video ciao a tutti ragazzi spara più forte ho messo un cannone velocità stai facendo wow io ho 196 196 non c'è un po' la caduta è vero? tanto siamo arrivati albio? ok sono morto mi immagino mi immagino le sensazioni che stavo provando mentre ci faceva quella domanda esatto è arrivato un thunder quindi adesso arriverà il mondo siamo nella cacca no c'è uno vicini ecco vaffanculo a cambiare i tasti uno mi ha fatto saltare in aria basta un pezzo di merda 12-4 ma che ne so c'è anche la ruota mica oh che ne ha vestito uno no pazzo basta basta è morto è ucciso anche me ma che cazzo è un pazzo si spara troppo forte si spara troppo forte ma oh è bello con cui giocavo in gioco dove uno non sa sostanzialmente niente di quello che sta succedendo ecco mi hanno rinvestito ma porca puttana io voglio perché mi imbeso ma niente adesso abbiamo abc c'è un tasto per insultarlo se vuoi grazie a tutti